Primo maggio ho vissuto in maniera tranquilla Cerignola nel Foggiano fra qualche negozio aperto, qualche candidato che aveva aperta la propria sede elettorale e anche molte biciclette con genitori e bambini che erano impegnati a farsi una sana passeggiata, nonché anche in qualche chiesa le comunioni. In differenza per la solita e noica, noiosa manifestazione delle organizzazioni sindacali che hanno messo in evidenza un titolo solidarietà fra le difficoltà e come al solito le polemiche nei confronti del governo nazionale francamente stancano e lo sono anche i cittadini.